Lazio. Interessati a un giocatore della Juventus? E l'accordo può avvenire nel mese di giugno. Sapere questo e molto altro. L'iscrizione al canale. E lasciando il tuo mi piace. La Lazio sta monitorando un giocatore della Juventus. Su richiesta del suo allenatore Maurizio Sarri. Chi si interessò a Luca Pellegrini? Oggi in prestito dalla Juventus al club tedesco Francoforte. Luca Pellegrini fa grandi presenze nel club. Il 23enne esterno sinistro termina il prestito a giugno e potrà tornare libero alla Juventus. Ma la Lazio intende acquistare Luca Pellegrini, a giugno. Più per quello bisognerà sborsare circa 9 milioni di euro per avere il giocatore italiano. Questa cifra farà sicuramente accettare la Juve. La Juventus dovrebbe vendere Luca Pellegrini? Sì. O no commento lì. E anche se puoi condividere questo video con i tuoi amici appassionati di Juventus.